Il 27 novembre del 90 è una data che è rimasta fissa nella mente di chi allora l'ha vissuta. In quattro agguati simultanei vennero uccise otto persone e sette ferite. Furono 18 minuti che, trent'anni fa, sconvolsero la storia di Gela. La Stiglia decise di sferrare un attacco militare a Cosa Nostra, convinta di poter in quel modo affermare il proprio potere. Quattro commando diversi si mostrano al covo di sette farine e da un casolare di campagna di Acate. Erano armati fino ai denti. Alle sette in punto, il primo gruppo di killer entrò in azione nella sala giochi Las Vegas, affollate di ragazzini. I primi bersagli erano proprio loro e fu una carneficina. I sicari erano quattro, arrivarono con moto in duro. Quello con il fucile sbarrava la porta. Gli altri salirono con i piedi sui biliardi e cominciarono a far fuoco. Sembravano petardi, ricorda il tabaccaio, accanto alla sala Las Vegas. Sento degli spari, come se fossero dei mortaretti. Il mio suogero dice ai clienti, Ma come stanno iniziando adesso, ancora non siamo a Natale. Ma poi quando ho sentito, Pum, 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 ci disse fermi tutti dentro la tabaccheria. Emanuele Trainito finì con la schiena sul flipper. Il secondo a cadere fu il salvatore di Dio. Giuseppe Aredia, di anni, ne aveva 17 e tentò di fuggire. Lo inseguirono e gli spararono alle spalle come un cane. Sei i ragazzi feriti, alcuni dei quali gravissimi. In Via Tevere le pistole spararono ancora ed uccisero Giovanni Domicoli. Suo fratello Aurelio fu più fortunato. Si buttò dietro un bancone di ferro, riuscendo a salvare la pelle. Lo colpirono con due pallottole. Dall'altra parte della baracca i killer non sprecarono un solo proiettile. Due cognati uccisi, due incensurati, Nicola Scerra e Serafino Incardona. Ma non era finita. Alle 7 e un quarto un'altra, in duro, girò attorno all'abitazione di Trubbia. Il cognato Luigi Blanco forse faceva da guardiano ed era incensurato. Tre colpi al cuore l'ho ucciso dall'istante. La mattanza non finì lì, perché alle 19 e 18 il quarto commando di morte completò la sua missione davanti ad una macelleria in Via Venezia. Due sicari inseguirono ed ammazzarono Francesco Rinzivillo, quarantenne commerciante di carni. Con lui chiusero il conto. Con lui chiusero il conto.